Pepe, il Napoli ha battuto Roma e Juve, spaventato il Real, gioca un calcio meraviglioso ma rischia di non alzare nessun trofeo. È un po' un grande rammarico questo? Rischia di non alzare nessun trofeo? Secondo me è già finita quel discorso. Poi gli obiettivi ci sono rimasti entrare in Champions, però soprattutto viene il discorso di crescita come squadra. Quella è la cosa più importante per noi, per raggiungere gli obiettivi. Ovviamente ti fa fuori il Real Madrid, ti fa fuori la Juve, dispiacere sì, però loro in questo momento sono un passo avanti, è chiaro. Almeno abbiamo capito che ci possiamo giocare contro chiunque, ovunque, quindi è già un passo importante di crescita. Adesso ci sono rimasti otto partite per raggiungere un altro obiettivo importante che è fare la Champions. Ho detto già prima, lui ha fatto bene oggi, però non perché abbia segnato Iguai mi sento peggio. Il problema è stato uscire dalla competizione, dalla finale di Coppa, quello è l'unico ramarico che ci possiamo martelare. Come ti dico, il Pip ha fatto oggi la differenza perché è un grandissimo giocatore che è costato 90 milioni. Ovviamente su quel punto hai ragione 100%, un 3-1 non è mica facile ribaltarlo. Però la squadra è creduta anche quando stava sotto nel marcatore. Ovviamente se le prestazioni vengono a meno è perché la Juve è una grande squadra e ci ha messo in difficoltà. Non perché la squadra non abbia creduto. Secondo me fede in questo gruppo c'è da ripartire per tutta Italia. Quindi la mentalità di questa squadra è sempre in crescita. Oggi l'abbiamo dimostrato. Potevamo anche molare con l'1-2 e la voglia di vincere questa partita è quello che ci ha fatto tirare fuori il risultato di vittoria. Grazie a tutti.